carissimi amici e amiche ben ritrovati per una nuova puntata questa è la numero 53 del ciclo di catechesi la madonna negli scritti di maria valtorta questo viaggio lungo e affascinante che stiamo facendo nella vita terrena di maria santissima attraverso la testimonianza di questa donna che asserisce di aver sesta la testimone oculare degli eventi che racconta fermo restando l'evidente nostra diciamo così atteggiamento di accoglienza sempre pacata e condizionata anche se il cuore batte in una certa direzione la volta scorsa abbiamo cominciato seguendo la impostazione di padre gabrile maria roschini che è l'autore ecco del testo di mariologia che stiamo seguendo e avuto diciamo il coraggio e l'ardire di 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 mettersi diciamo in questa in questa avventura quindi di fare un testo di mariologia sugli scritti di maria valtorta quindi era arrivato a un punto fondamentale della mariologia come vi ho accennato è una cosa molto molto importante peraltro ripresa anche dalla teologia sulla madonna quindi dalla mariologia del concilio vaticano secondo che è appunto l'immagine di maria prototipo della chiesa e abbiamo già visto delle delle suggestioni interessanti e importanti che evidentemente non ripetiamo la volta scorsa e ci riprendiamo invece dal dal punto dove come sempre ci siamo fermati per continuare la lettura e il commento allora ancora il tema è l'amore di maria perché abbiamo visto la ragion d'essere della della chiesa questa sera qui sono sempre tantissime dio incidenze se mi trovo tante volte quando faccio queste catechesi che l'oggetto delle catechesi ma qualunque esso sia cioè una volta la sana dottrina cattolica un'altra volta suggerite sulla divina volontà un'altra volta era una donna degli scritti di maria valtorta ma echeggiano la liturgia della parola della messa del giorno cioè io da poco ho fatto un'omelia che ho anche da poco postata credo che sia già su youtube di oggi oggi c'era una spettacolare passaggio di san giovanni evangelista nella santa missa dove dice che chi ama ha conosciuto necessariamente dio cioè chi non ama dio non lo ha conosciuto cioè non è stato generato da dio perché dio non è altro che amore e chi conosce dio non sa fare altro che amare adesso vedremo che proprio questa sera qui abbiamo inizieremo questa questa conversazione con delle con un tuffarsi nella forza diciamo così dell'amore che dio era capace che la madonna era capace di dare a dio e perché perché la madonna è tutta di dio è tutta da dio ed è tutta di dio è il riflesso vivente è la piena di grazia ecco perché la tutta amore ed ecco perché fino a quando noi non cresciamo nell'amore l'amore verso dio e l'amore verso tutti cioè l'amore quando c'è è universale necessariamente parte dall'altissimo ma arriva anche al più piccolo esserino e significante cioè ti viene l'amore pure per il vermiciattolo che striscia ti passa il ribrezzo perché anche nel vermiciattolo che striscia scorge una creaturina di dio accordo se gli puoi evitare una sofferenza al vermiciattolo che striscia gliela eviti se c'è il cuore pieno d'amore cioè se si vedono gli scritti di 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 maria valtorta per esempio adesso non so se 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 tra breve lo vedremo l'amore che c'è per esempio la madonna per per i suoi colombini del giardino di nazareth come li trattava becati colombini insomma trattati dalla però questo senza come dire oggi nel nostro mondo contemporanea tutto quanto il mondo tutto quanto a rovescia che ci sono gli eccessi di certo animalismo estremo no che per carità si prende cura che non è sbagliato di come dire certi settori del mondo animale però magari nei confronti del mondo cristiano ma non cristiano nel senso cristiano nel senso comune del termine insomma degli esseri umani non 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 riversa altrettanto amore no e si va in contraddizione in termini invece quando c'è l'amore autentico l'amore va va dappertutto parte sempre da dio perché la fonte è il primo procetto dell'amore è dio e nessuno ha amato dio come l'amato maria ma è anche vero che nessuno è stato amato da maria e come dire da dio attraverso maria come di fatto lei ha amato le persone e come ci ama noi adesso oggi d'accordo perché il fatto che la madonna stia in cielo non è che ha smesso di amare noi ci ama di più caso mai allora comincio la lettura con questa premessa no evidente ho dato un attimo uno sguardo davanti a me il testo digitale dico ma tu guarda appena l'ho guardato dico ma guardate oggi che cosa ci sta no quindi l'eco della messa di oggi è veramente maria santissima dice san giovanni san giovanni evangelista che è l'apostolo del dell'amore veramente l'apostolo della fede e dell'amore ecco maria santissima dice san giovanni diede a dio da sola tanto amore quanto tutti i sommi sacerdoti e gli altri tutti del tempio non dettero in secoli e secoli amore ardente purissimo da sola cioè la madonna è stata con lei che ha amato dio più di tutti e per tutti riparando anche a tutte le nostre mancanze di amore a tutto il nostro disamore noi quando sentiamo queste cose anche dinanzi alle letture come quelle della messa di oggi no di san giovanni nel silenzio del nostro cuore ma tanto lo sappiamo dobbiamo chiederci ma io lo amo al signore lo amo dio o no lo amo veramente cioè quando noi amiamo qualcuno qualcosa non c'è bisogno di starci troppo tempo a pensare io da tante volte ho fatto fatto questo esempio quando uno è innamorato chi è stato umanamente innamorato queste cose le sa non è se sei innamorato di quello ma aspetta un attimo fammi fammi pensare dunque sì quando ci penso sì mi batte un pochino il cuore sì quando quando la vedo per carità sì sono innamorato ma non ti risponde così la persona che è innamorata una persona che è innamorata se tu ti chiedi se è innamorato non ti fa manca arrivare a innamorà alata già detto ma come no sto proprio perso sto non penso altro dalla mattina alla sera quindi se noi siamo innamorati di dio lo sappiamo e se non siamo dobbiamo avvicinarci alla fonte del calore perché l'amore è da dio è in dio io mi sento un pezzo di ghiaccio io non amo nessuno non amo dio non amo me stesso non amo il prossimo e allora calma tranquillo non succede niente avvicinati alla fonte vuoi prendere fuoco avvicinati al fuoco se ti avvicini al fuoco ti bruci se stai lontano dal fuoco certamente sei freddo quindi la madonna su questo sicuramente ci incoraggia no per chi crede a me giugorie anche qui insomma io personalmente penso di poterlo dire insomma no io personalmente ci credo me giugorie d'accordo mia opinione personale fermo sempre come su tutto restando il giudizio della chiesa no che tra l'altro sembra procedere a quanto pare verso canali a quello che mi ha dato insomma di comprendere positivi no ci sono delle cose bellissime anche lì cioè una volta la chiesa rivegenti era monotono invece ma come mai che sei così bella ma che fatto e lei mi disse sono bella perché amo amate e sarete tutti belli come me l'amore ci trasfigura ci cambia non solo ci cambia la vita c'è una bellissima canzone se posso fare pubblicità di gianni morandi che sto dicendo questa sera che si chiama l'amore ci ha cambiato la vita ma guardate cioè questi cantautori cioè mi capita di sentire una canzone così magari lui sta pensando non voglio c'è una cosa bella è sta pensando alla sua innamorata sta pensando a qualche acqua qualche creatura no ma quando dice l'amore ci ha cambiato la vita sta dicendo qualcosa di grosso sta dicendo qualcosa di vero sta dicendo qualcosa di bello di meraviglioso di verissimo l'amore ci cambia la vita e non c'è bisogno di starci troppo tempo a pensare e come ho detto tante volte cioè le persone che ci sono intorno non possono non accorgersi di questo se questo ancora non c'è il nostro cammino zoppica non stiamo camminando bene forse ci abbiamo ancora un'idea distorta di dio forse ci abbiamo ancora tanta tanta nostra volontà umana cioè ma sicuramente cioè la madonna è lo specchio perfettissimo terzissimo perfetto cioè se noi assomigliamo a lei vuol dire che stiamo camminando bene verso dio quanto più noi siamo dissomiglianti con lei cioè la madonna è la fotocopia perfetta è un ente creato ma come dire gesù diceva chi ha visto me ha visto il padre certamente l'ha visto per per natura no ma la madonna è la fotocopia creata diciamo capito la fotocopia creata ovviamente quindi c'è stato un abisso ma era fotocopia però allora continua il testo l'amore di maria per il suo gesù è semplicemente ineffabile queste sono parole di roschini e che commenta quello che adesso cita di nuovo dall'evangelo dal capitolo 473 77 baracrofo terzo sta commentando il teologo quindi grazioso l'episodio nel quale maria consegna gesù e comincia la citazione gli indumenti che ella ha preparato per i mesi invernali solidi caldi atti a riparare dal freddo e dall'acqua quanto lavoro mamma esclama gesù aveva ancora quelli dello scorso inverno dopo commentiamo ma non ho sciupato nulla risponde la vergine questo mio mantello è il tuo accorciato e ritinto per me va bene ancora ma per te non andava più tu sei gesù dire cosa c'è in questa frase commenta maria valtorta è impossibile tu sei gesù una frase semplice ma tutto l'amore della madre della discepola dell'ebrea antica per il promesso messia e dell'ebrea del tempo benedetto che possiede gesù a in quelle poche parole se la madre si fosse prostrata adorando suo figlio come dio non avrebbe avuto che una forma ancora limitata nella sua forma venera bonda ma in queste parole è più di un'adorazione formale delle ginocchia che si piegano della schiena che si curva della fronte che tocca il suolo qui è tutto l'essere di maria la sua carne il suo sangue la sua mente il suo cuore il suo spirito il suo amore che adora totalmente perfettamente il dio uomo che dire anche qui sembra sentire un eco siamo ancora nel tempo dell'epifania da poco è stato il 6 di gennaio nel 6 di gennaio la festa dell'adorazione ogni anno qualche predica sull'adorazione obbligatoria una di quelle che ho fatto si chiama baci e adorazione a gesù incredibile quindi l'amore e l'adorazione no che quello che si fa durante l'epifania quando si può fare purtroppo quest'anno abbiamo dovuto fare un facsimile disgraziatamente però anche su questo bisogna stare ai tempi ea quello che i fatti ci mettono dinanzi no quindi cose da fare si adora si dà il bacio al bambinello compiendo un gesto esteriore leggevo questa sera un testo stupendo del cardinal sarà che consiglio a tutti ormai si fa sera e il giorno volge al declino un testo bellissimo che dove a un certo punto li parla della virtù della religione che è la giustizia che si deve a dio e parla dell'importanza dell'adorazione e racconta un episodio il cardinale dove ci sono rimasto fulgorato è stato in un monastero di certosini credo in francia dice ma sai che fanno questi prima della messa per prepararsi alla messa stanno prostrati stesi con la faccia a terra mezz'ora in adorazione davanti al tabernacolo con la faccia terra proprio per per l'amore per l'adorazione dovuta al signore bello no attenzione però cosa è successo qui tutto quello che c'è in questi gesti forti estremi belli cioè io penso come parroco ho avuto modo di come parroco anche come come sacerdote ho avuto modo di di conoscere di di gioire anche per tante persone che si sono riavvicinate al signore dopo magari un tempo più o meno lungo di vita che erano state lontane no quando la conversione è forte autentica cioè nasce quasi proprio un bisogno un'esigenza proprio di di stare in adorazione di manifestarla ci si può anche giungere a stare per tempi abbastanza prolungati in ginocchio da direttura sono mandato a dire a cominciare a causare qualche problemino alla schiena insomma o alle articolazioni delle ginocchia no perché è normale è bello tra l'altro d'accordo è una cosa l'adorazione è un vertice una cosa bellissima cioè adorazione e amore sono proprio i due atteggiamenti come dire intrisi mischiati non so adesso non so un po' un po' come dentro un atomo il protone con l'elettrone sono indissociabili perché l'adorazione è amore e l'amore è adorazione qui la madonna in un dintre parole tu sei gesù ha detto cioè in come le ha dette in quello che ha detto in come ha guardato no lei ma devo torta ha visto questa cosa qui c'è tutto dice è molto peggio ginocchia che si piegano schiena che si curva no come i monaci che abbiamo parlato fronte che tocca il suolo quindi la prostrazione la forma estrema di adorazione no 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 questo questo ancora niente sono molto di più queste parole e nota qui c'è tutto l'essere di maria la sua carne il suo sangue la sua mente il suo cuore il suo spirito il suo amore che adora totalmente ecco proprio il nostro specchio il suo amore che adora totalmente ecco adesso scendendo a un piano qui stiamo proprio nell'iperuraneo che quello di di platone ci fa un baffo per come la madonna ci fa salire insomma in alto quando quando se ne esce con queste sue chicche non queste sue gemme adesso torniamo un pochino un po più prosaici no vediamo un pochino il fatto contingente che ha scatenato diciamo questa espressione mitica tu sei gesù ce la dobbiamo ce la dobbiamo ricordare no tu sei gesù e qui pensiamo anche noi cioè a come stiamo davanti a gesù cioè noi abbiamo l'eucaristia non ci abbiamo gesù diventa realmente ma ci abbiamo l'eucaristia facciamo la comunione che vite cioè io vorrei tantissimo che mi piacerebbe tantissimo che tanti figli di dio ma lo dico per loro d'accordo non lo dico appunto proprio desiderando questa cosa bella per tutti no e renderci conto ecco che stiamo sempre al cospetto e dinanzi all'amore l'amore stesso che attende da noi come dire una relazione personale intima di questo genere la madonna tu sei gesù perché non c'è che ha capito stava proprio statica adorante amante ecco è vero che purtroppo noi ci abbiamo tante limitazioni strutturali libro della sapienza dice la tenda d'argilla che è questa cosa diciamo così in cui la nostra anima si trova benino però anche un pochino a volte condizionata e imprigionata quasi a volte la moda della tenda d'argilla dice il libro della sapienza è gravata di molti pensieri quindi non riusciamo a entrare in preghiera non riusciamo a concentrarci non ristiano non siamo ci abbiamo le preoccupazioni come dice gesù gli affanni della vita è vero però non dobbiamo lasciare che questo ci prenda troppo quindi che diventi praticamente un come dire una regola assoluta certo delle volte e anche le anime che maggiormente sono slanciate verso il bene io lo so per perché perché sono sacerdote hanno i momenti anche permessi dal signore in cui non parte la preghiera diciamo così ecco nonostante tutta l'attenzione tutta la concentrazione cerchiamo di metterci è vero che altre volte siamo un pochino troppo presi ma è vero io insisto un pochino su queste cose perché non sempre non non e non da tutti è compresa l'importanza della relazione personale con gesù del rapporto personale con lui personale ripeto personale personale l'ostia non è una cosa capite cioè non è una non è un oggetto è una persona capite nel tabernacolo non ci stanno le ostie si ci stanno le ostie ma c'è gesù ok c'è una persona divina tra l'altro non umana una persona divina che è apparso quando ha manifestato aperto il petto con il cuore infiammato d'accordo infiammato che cerca come dire uno scarico diciamo così per il suo amore c'è qualcuno che l'accolga che gli dia la possibilità di farlo sentire è un ricambio e da chi lo trova se non lo trova da noi da quelli che sono che hanno ricevuto i sacramenti che sono battezzati che possono chiamare dio padre che hanno che possono fare la comunione da chi lo riceve bene adesso scendiamo un pochino terra terra l'occasione contingente è che la madonna aveva bellissimo che si vede anche quanto quanto la madonna lavorasse in casa no perché non è che le donne una volta non lavoravano scendiamo un po terra terra no lavoravano diversamente ma la donna ha sempre lavorato e tantissimo cioè pensate a fare tutti quanti i vestiti per una famiglia a quei tempi c'era come si chiama c'era il fuso e la conocchia insomma una cosa da niente tinteggiarli no qui a un certo punto la madonna dice gesù il campione della della povertà dice quanto lavoro mamma un po era commosso ma poi queste cose da buon povero erano ancora buone le poteva ancora mettere attenzione che io non ho non ho sciupato niente attenzione qui è attenzione che apriamo una piccola parentesi sul discorso della povertà evangelica vissuto come dire spero di riuscire a dirle bene e tante cose ecco comunque dice no dice questo è questo è il mantello tuo l'ho messo a posto e l'ho ritinteggiato e ritinto ma come faceva cioè io non lo so come facevano a tinteggiare anticamente presumo che ci fossero delle vasche dove ci mettevano dei 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 colori dentro ma insomma è un lavoraccio e quindi la madonna lavorava le donne di un tempo altro che se lavoravano dovevano fare il pane a mano i vestiti a mano tinteggiarli a mano tenere la casa a mano curare l'orto loro insomma più sta presso al marito e figli non lo so se non lavoravano poverine insomma no quindi va bene chiusa quindi questo fa anche comprendere come la madonna abbia vissuto cioè non dobbiamo immaginare la la madonna è scorretto questo qui è quindi certo la madonna stava sempre alla presenza di dio stava sempre fusa con la divina volontà ma la divina volontà per lei certi momenti era stare alla conocchia il famoso punto d'ago di cui parla san luigi maria monforte che aveva un valore immenso agli occhi di dio per l'amore con cui la madonna compiva anche la minima cosa per la perfezione delle sue intenzioni per l'unione in hh 24 che aveva con la volontà divina no nel però la vediamo intenta e gesù dice e lei stessa dice non ho sciupato nulla la discepola del maestro il maestro amava la povertà attenzione la povertà la povertà è una cosa importantissima per la vita cristiana non è ed è per tutti questo bisogna metterselo anche le persone ricche se vogliono possono essere evangelicamente povere e se mi posso permettere un piccolo suggerimento io suggerirei vivamente perché di incanalarsi verso questi orizzonti ci sono delle forme di povertà che andrebbero considerate interiorizzate se io non voglio assolutamente mettere lacci dentro i cuori di nessuno bisogna pensare alle cose interiorizzarle e poi una volta che uno le ha comprese assimilate interiorizzate farle nostre d'accordo allora le cose non si sciupano per esempio sciupare le cose interroghiamo il nostro cuore qualcuno di noi potrebbe dire a sprecare una cosa è una cosa fatta bene non lo è non lo è sia che riguarda un vestito come nel caso di gesù e maria sia che riguarda il cibo sia che riguarda noi siamo nel 2021 ai tempi di gesù sti problemi forse non c'erano per esempio l'energia elettrica il gas allora attenzione questa forma di povertà non è la pitocchieria né la tirchieria né l'avarizia no ma è l'aver interiorizzato uno spirito che una cosa è un dono di dio e io la tratto bene la tratto come un dono di dio cioè hai visto quando quando una persona ci fa un regalo no o quando noi facciamo un regalo una persona cosa dice il galateo se una persona ti fa un regalo tu quando la vedi se hai la possibilità devi mostrarvi che il regalo lo hai gradito cioè ti è stato regalato un maglione per esempio no ti invita la persona che te l'ha regalato se tu sei una persona che comincia ad avere un po di cuore bello d'accordo un cuore un cuore bello un cuore che ama è chiaro che andrà da quella persona col maglione che ci ha che gli ha regalato per mostrare che è contento del regalo ricevuto no sapete tutti quanti mi si perdoni che faccio questi esempi un pochino che tutti quanti certamente già sanno no se tu invidi a pranzo una persona e quello di ti porta una bottiglia di vino tu potevi anche avere già aperto la bottiglia tua la tua la togli e si apre la bottiglia di vino di chi te l'ha regalata questo 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 è ovvio questo qui no perché perché è un dono cioè quello un dono cioè io sono obbligato dinanzi al dono se voglio mettermi in una buona a dimostrare il mio gradimento nei confronti e la mia gratitudine e il fatto che quel dono l'ho gradito e lo uso subito d'accordo e lo uso fino in fondo come rimarremmo noi se portiamo una bottiglia di vino quello la guarda e dice ah grazie la piglia valla valla mette in cantina ecco perché Gesù dice nel Vangelo quando c'avete qualche dubbio tutto ciò che volete che gli uomini facciano a voi fatelo anche voi a loro le cose non si sciupano primo perché sarebbe una mancanza di gratitudine verso chi te le ha donate c'è gente che purtroppo va in giro nuda c'è gente che purtroppo non mangia se abbiamo ricevuto la grazia di non andare in giro nudi e di mangiare manifestiamo la nostra gratitudine domanda anche questo è una domanda che ce la facciamo con calma no senza precipitare le cose capito senza che si senta accusato giudicato che si trovasse in una situazione di questo genere no ecco è una cosa fatta bene davanti a dio per esempio se qualcuno stesse in questa situazione averci un armadio strapieno di vestiti molti dei quali non solo che non me li metto ma manco li guardo e mi sono pure scordato che ce l'ho se uno si mette a pensare può essere una cosa fatta bene questa qui gradita al cielo ma evidentemente no evidentemente no i vestiti che non metto mai sono costati del denaro che è stato sprecato punto il fatto che rimangano dentro l'armadio sono sprecati ancora almeno per riparare un po chiamo la carita serio cesana mi informo da qualcuno almeno se veramente no ma andiamo a vestire qualcuno che non ce ne ha più e fino a quando non mi sono consumato i miei sono dica tante di venerci dire come uno straccione però insomma no non ne compriamo altri perché se mi avanzano un po di soldi che ce faccio questo è un altro capitolo l'uso che facciamo del denaro quanto bene che possiamo fare quello e tutto quello che ci viene indietro l'età le barre non c'hanno le tasche ci ricordava tante volte anche il papa ma io questo l'ho detto in tantissime omelie e dobbiamo pensarci in cielo c'è un conto corrente d'accordo c'è io la chiamo la bdc la banca del cielo d'accordo amministratore unico nostro signore e amministratrice delegata alla madonna allora quella è una banca dove uno i ladri non arrivano secondo gli interessi sono al 100 per uno per quanto riguarda questa vita all'infinito per uno per quanto riguarda l'altra vita io ho avuto la grazia di conoscere situazioni di persone viventi ai nostri giorni generosissime nel dare 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 e nell'avere il problema mi dovete credere le bugie non le dico non le voglio dire non direi una cosa di questo genere se non fosse vera ovviamente non dirò di chi si tratta d'accordo anche se non è detto che chi mi ascolta possa identificare no ma persone che hanno scelto a livello eroico questo chiaramente non è una cosa che devono fare tutti però fino a dove può arrivare un processo di interiorizzazione di questo valore cioè che erano talmente generose nel dare che poi la provvidenza li riempiva di beni di soldi cioè più ne davano e lo facevano con il cuore volentieri e più gliene arrivavano se uno vede il Gesù negli scritti di Maria Valtorta qui stiamo concentrati sulla Madonna noi non pensiamo che Gesù era povero certo che Gesù era povero ma a Gesù sono passati fiumi di soldi in mano durante la sua vita Giuda stava avvenenato perché gli arrivavano offerte da tutte le parti e Gesù prendeva via dare tutto ai poveri e Gesù dice ma teniamoci qualcosa per noi che dobbiamo fare un viaggio lungo e se dopo non abbiamo niente da mangiare ci comprano qualcosa vai dai ci pensa il padre a noi lascia perdere ci pensa il padre cioè questo ci pensa il padre cioè il valore grande della povertà non è cioè non è un valore essere poveri perché essere poveri non è un valore non è una cosa cioè auspicabile no ma quello è uno è uno strumento con cui tu se tu ti metti in questa tu sperimenti in continuazione l'amore di Dio la provvidenza di Dio capito non Dio non ti lascerà indigente senza niente se tu sei largo nel tante cioè quello che ti restituisce è molto di più che quello che tu dai e non solo in beni materiali che l'ultima cosa in pace in benedizioni in grazie e poi vedrà in paradiso che è successo perché tutti i soldi che noi abbiamo dato proprio soldi soldi qui sto parlando soldi o beni d'accordo sono tutti quanti depositati nel conto della banca del cielo tutti fino all'ultimo centesimo cioè quando noi saremo morti quanti soldi hai dato tu nelle mosine in vita tua perché il caso ci sta un numero noi non lo sappiamo ma Dio lo sa è preciso cioè Dio è Dio spero che tutti siamo consapevoli tu hai dato se è stato uno poco generoso in vita mormorirai che avrai dato in tutto 2000 euro circa in beneficenza e quelli ti ritrovi se tu in realtà di 100.000 in beneficenza certamente questo può proporzionare sapete anche qui no c'è magari 2000 euro in una vita di un povero reale quindi di un povero operaio che veramente faceva fatica ad arrivare alla fine del mese su 2000 euro di quelli sono equivalenti a 2 milioni di euro di un riccone questo lo capiamo no non c'è una cifra cioè non c'è un parametro oggettivo i parametri sono sempre proporzionati no e quindi attenzione quei 2000 euro di un povero fruttano interessi tanto quanti 2000 i 2 milioni di euro del riccone ovviamente insomma no però l'esemplarità di questo di questa cosa cioè uno è il senso dell'importanza delle delle cose le cose non si buttano d'accordo eventualmente si riciclano anche sul cibo io non dimenticherò mai insomma tanti tanti anni fa se posso raccattare un episodio insomma avevo fatto arrivare quando venne gloria polo tanti tanti anni fa quella dentista colombiana insomma che aveva forte esperienza di dio convertita avevo messo in i libretti con la sua testimonianza insomma una volta mi presenta una persona padre io andrò all'inferno che è successo nel libro di gloria polo c'è scritto che gesù chiede conto anche ad un chicco di riso io ho sprecato un sacco di roba in vita mia di ferma e dedico tranquilla tranqui tra calmi tranquilli tranquilli tu fino ad oggi non lo sapevi quindi stai tranquillo d'accordo adesso anche se in maniera un pochino poi non un pochino un pochino forte insomma un po un cazzotto nello stomaco hai conosciuto questa cosa da oggi in poi cerca di fare attenzione d'accordo ho raccontato da tante volte io so c'ho anche le foto è cioè la fame nel mondo non esisterebbe questo 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 mettiamocelo bene in testa se nessuno sprecasse cibo non solo che non esisterebbe la fame nel mondo ma con il cibo e questi sono numeri e come dire reali non chiacchiere dati della fao certamente adesso sono datati a cinque sei anni fa d'accordo quando andai con i ragazzi ad una mostra a roma ma c'è ancora le fotografie che ho fatto in quelle in quel museo e con i dati sei sette anni fa morivano di fame ogni anno 800 milioni di persone per denutrizione ma i numeri del cibo sprecato otto anni fa secondo i calcoli della fao avrebbe sfamato 3 miliardi e 200 milioni di persone cioè quattro volte tanto la gente che muore di fare capito perché è grave sprecare le cose perché se anziché sprecare quell'euro in meno cioè anziché comprare due chili di frutta che sai che un chilo se ne andrà male ne compri uno è un euro lo dai ai poveri d'accordo c'hai coppa di pallo oggi si donano un euro d'accordo a tante organizzazioni e d'allora perché devi buttare un euro di frutta che motivo c'è certo purtroppo figlioni miei cari uno stile di vita di questo genere è chiaro che con come tutte le virtù richiede un pochino di attenzione d'accordo cioè le luci accese non si lasciano anche non si lasciano perché io so tirchio e devo risparmiare sulla bolletta perché perché voglio non voglio spendere se tu risparmi 20 euro sulla bolletta se tu c'è la povertà evangelica quindi quei 20 euro che ti vengono dall'attenzione a non sprecare li mandiamo a madre teresa di calcutta d'accordo poi si può anche far dire qualche bella santa messa per le anime del purgatorio che carità lo stesso è d'accordo quindi la carità in tutti i modi possibili ok quindi è chiaro che richiede un pochino di attenzione è bello poi però quindi questa è una cosa che gradualmente deve cominciare a come dire a essere interiorizzata e diventare anche oggetto di esame di coscia ho fatto delle spese inutili è come quando noi perdiamo tempo no ho fatto delle spese inutili senza farsi finire poi come dire il cardiopalma cioè però ci sono veramente delle volte penso che delle cose che uno potrebbe proprio evitare no io ho fatto qualche ironia qualche volta non vorrei aver mancato alla alla carità insomma che passare del tempo diventa un pochino più sensibile no ma avevo fatto una battuta insomma no perché ricordo che quando ero giovane c'erano certe amiche insomma che tu uscivi per un'estate intera non le vedevi due giorni con lo stesso paia di scarpe ma che c'era 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 la cantina andò le mette del santa paia delle scarpe che ci fa te scordi pure quante 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 ce n'hai no poi ho saputo insomma che c'è un pochettino che c'è una battuta che circola che 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 le donne generalmente impazziscono dinanzi alle scarpe alle borse relata refero però non vorrei sembrare insomma come dire non vorrei ferire né toccare insomma nessuno però a queste cose piano piano bisogna bisogna pensarci vedere questa 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 bellezza no la madonna che lavora tanto per gesù a lui le cose nuove però le cose vecchie non si buttano non si buttano ma prendo io le sistemo e me ne metto io per esempio i famosi lavori in via di estinzione prima prima di buttare un paio di scarpe dove stanno i santi calzolai d'accordo che credo che sia un lavoro in via di estinzione alcuni alcuni mestieri calzolaio idraulico elettricista con questo mondo iper globalizzato stanno diventando merce rara no prima di buttare un paio di scarpe e verifica che si possono aggiustare no o no certo sono proprio arrivate insomma che di anna con la sola dei fori no però verificano cioè adesso poi ripeto non voglio mettere lacci ok quindi deve passare un valore deve passare un una mentalità poi i gradi con cui questa cosa si vive perché si può vivere in grado eroico come ad esempio che vi ho raccontato prima ecco di persone che sono proprio generosissime e si può vivere un grado meno eroico però la comprensione dell'importanza del valore cioè la povertà evangelica è una virtù cristiana ok punto per tutti perché anche i ricchi può un ricco che magari non se la sente di fare come giochi di dare molto evitare di sprecare il cibo perché no può un ricco evitare di fare spese di lusso superflue perché no può un ricco evitare di sprecare a quantità industriali acqua e luce ecco quello che gli avanza se non se la sente di fare gesti più importanti almeno fare un pochino di di opere buone perché no ecco va bene andiamo andiamo avanti o ci fermiamo vediamo un po leggiamo un altro paragrafetto e poi ci fermiamo le tre estasi di amore è maria stessa che ce le rivela attenzione e anche le cose più comuni e ordinarie venivano compiute dalla vergine con amore le cose più comuni e ordinari tutto con amore degne però di particolare rilievo sono le sue tre estasi d'amore e i tre baci d'amore verificateci nella vita di maria leggiamo quest'ultimo paragrafo le tre estasi d'amore è maria stessa che ce le rivela e dice un'estasi fu il concepimento del mio figlio una più grande estasi il darlo alla luce nell'umile grotta di betlemme e l'estasi delle estasi il mio transito dalla terra al cielo soltanto durante la passione nessuna estasi rese sopportabile l'atroce mio soffrire quindi chiama la madonna gioisca con lei e quando durante il rosario prega l'annunciazione primo mistero caudioso la nascita di gesù terzo mistero caudioso e l'assunzione sappia che sta vivendo i momenti più belli della vita terrena di maria le sue tre estasi d'amore e le ha le anime che amano maria se ne rallegrano immensamente le anime che amano maria che conoscono anche la divina volontà possono anche offrire nella divina volontà maria quelle estasi e in maniera misteriosa ma vera fargli rivivere cosa che raccomando vivissimamente a tutti coloro che amano la madonna oltre alle tre estasi si furono poi tre baci d'amore il primo fu il bacio del padre nel momento stesso in cui creò ed infuse al corpo l'anima della sua figlia prediletta preservandola dal peccato originale e riempendola di grazia attenzione poi la prossima volta possiamo fare interrogazione chi si ricorda quali erano le tre estasi tre baci perché non sono la stessa cosa questo fu il primo il secondo bacio fu quello del figlio nel momento stesso in cui il cuore di lui incominciò a palpitare accanto al cuore di lei e il terzo bacio fu quello dello spirito santo l'amore del padre del figlio nel momento stesso in cui la vergine fu assunta in anima e corpo alla gloria del cielo con ragione gesù ebbe a dire che maria possedeva una carità vasta come il mare quindi attenzione ciascuna delle persone della santissima trinità ha dato un bacio alla madonna un bacio super il padre quando ha creato la sua anima preservandola dalla colpa d'origine un vortice d'amore in cui la poi il secondo bacio concomitante alla prima estasi cioè il concepimento immediatamente successivo dice appena il cuore di gesù cominciò a palpitare nel mio subito lui mi deve il suo bacio il bacio del figlio e poi lo spirito santo nell'ultima grande estasi perché secondo maria valtorta io sinceramente è quello che ho sempre pensato la morte della madonna non è stata una morte come la nostra è stata un estasi un rapimento d'accordo questo è un estasi basta leggere santa teresa davila nel rapimento la parte superiore della nostra anima esce dal corpo non tutta l'anima e il corpo diventa sembrerebbe morto perché è privo di sensi è privo di conoscenza se rimane con gli occhi aperti come nelle visioni dei veggenti tu gli metti le mani davanti non si accorge di nulla se lo pungi non ha reazione cose di questo genere no invece la madonna ha avuto un sonno estatico e al termine dell'estasi prima che l'estasi finisce gli angeli prendono il corpo lo portano dove maria stava rapita e l'estasi termina con il suo corpo che l'estero ritrova in cielo questo a mio avviso è una delle ricostruzioni più attendibili però anche su questo c'è libertà perché anche sull'assunzione come sul peccato originale la chiesa ha detto che la madonna è stata assunta ma non come e non ha chiarito nulla di ufficiale per cui si è liberi di pensare su il fine vita quindi se sia morta o non sia morto sicuramente il corpo non è stato corrotto d'accordo e sul resto possiamo essere liberi anche su questo secondo me come sul peccato originale maria valtorta ha visto bene ma anche qui maria valtorta con tutto il rispetto prima di lei avevano visto bene insegni santi e dottori della chiesa con ragione concludiamo ebbe e gesù ebbe a dire che maria possedeva una carità vasta come il mare e con ragione la vergine l'amante di dio per antonomasi può rivolgere a tutti i membri della chiesa questa esortazione ci congediamo con questo io vorrei proprio lasciarla così senza commentarla sarà difficile senza commentarla comunque sentite che belle queste parole sempre di maria dall'evangelo giungete o cristiani a questo totale amore tutto quanto è terreno perda valore mirate solo dio quando sarete ricchi di questa povertà di desiderio non desiderare più le cose del mondo che è immisurabile ricchezza dio si chinerà sul vostro spirito per istruirlo prima per prenderlo poi e voi ascenderete con esso al padre al figlio allo spirito santo per conoscerli e amarli per la beata eternità e possedere le loro ricchezze di grazie per i fratelli non si è mai tanto attivi per i fratelli come quando non si è più tra di essi ma si è luci ricongiunte alla divina luce la madonna vorrebbe che tutti giungessimo dove arrivata lei cioè questo suo desiderio è irrealizzabile perché dove arrivata lei non ce la possiamo fare però camminare per quella via si giungere al totale amore il totale amore mio che è diverso da quello immensissimo della della madonna però basta che sia totale va bene lo stesso e questo però succede nella misura in cui quello che è terreno perde valore però quello che è terreno perde valore anche nella misura in cui cresce il nostro amore quindi è un è un dinamismo è un gioco ecco è una serie di 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 santi fili concatenati ecco questo spesso che siano i più belli auguri di di un santo 2021 che ci riprendiamo dalla madonna giungete o cristiani a questo tale amore tutto quanto è terreno perda valore mirate solo dio solo quando saremo ricchi di questa povertà di desiderio dio si chinerà sul nostro spirito ci distruirà e ci prenderà e ci condurrà alle vette più alte della santità in terra e alla gloria in cielo alla prossima per chi ha seguito in diretto per chi ascolterà in differita dio vi benedica la madonna sempre vi protegga vi faccia conoscere la sua bontà il suo volto e il suo amore nel nome del padre e del figlio e dello spirito santo ave maria